Anche quest'anno abbiamo organizzato a Santo Stefano la 17esima sagra della Pizzonda e il programma prevede che il 9 ci saranno gli outlet, il 10 ci saranno i pupazzi più DJ LP fino a sera tardi, domenica 11 ci sarà Progetto Malafè, mentre l'ultimo giorno, il 12, ci sarà Danilo Ciccolone, divertimento assicurato. La Pizzonda è una frittella che veniva usata nel passato come sdiuno, ovvero colazione. Abbiamo diverse varianti nella sagra della Pizzonda, come ad esempio la frittella con il tartufo, con i peperoni e anche una variante dolce con nutella e cocco. Ricordiamo che la Pizzonda è un prodotto vegano. Inoltre, quest'anno supportiamo l'ambiente e quindi abbiamo aderito al progetto EcoFesta. Usiamo materiali biodegradabili e vi invitiamo a venire.